Gopro ammazziamoci Beh qua già è buona. Cosa ci va qua? Boh, ti avevo detto in mezzo. Gopro cosa sta registrando? Beh comunque io se venivo giù io ti dico la trovavo la traccia Non sai dove è la traccia? C'è anche l'altra Ecco, è un po' sporca. Meglio andare al pianino Si Ok, non è scivolosa comunque eh Sai? Non è scivolosa Eh? Non ho capito È un po' sporca Si Qua è asciutta Qua è asciutta è bella, ma così sporca non è proprio No, non è proprio il massimo Però la storia del potenziale Qua è pulita è molto bella No, immagino però No Beh si mi viene solo le uova Perina non vedo la traccia norman dove ci va oh ma dov'è ah di qua oppa carina forse la dirà si capisci niente no è pulito e maggio che sia bella non so cosa sta inquadrando qua è andato a pezzi veloci merda sei se è Mirko orato cazzo provvede no ti è caduto la copena vedi che cade davanti cade davanti Mirko anche a me è pulita e bella si cos'è vado bella cioè se fosse pulita così un po' meno no vabbè però ci fa dai parci ho andato dritto io ma che cazzo di linee fai oh oh ma vai pia ma porca mera cave si è andato su grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti